ciao a tutti questa è la video recensione degli auricolari wireless della frego che mi sono stati venduti dalla patox che arrivano in questa scatola al suo interno come vedete troviamo i nostri auricolari molto belli con la pulsantiera più più meno e quello per accettare le chiamate poi troviamo il cavo usb due tappetti di misura large due tappetti di misura medium due tappetti di misura small questo oggetto qui che serve a fermare il filo delle cuffie così che quando le avete al collo non vi scivolano ecco questo modo poi vi arrivano i poggiorecchi di questa forma in queste dimensioni e poggiorecchi di questa forma in queste altre dimensioni poi arriva questo fogliottino che vi spiega come inserire poggiorecchi e vi spiega anche che l'auricolare R che sarebbe praticamente questo qui l'auricolare R in pratica va sempre messo dal lato del telefono e mai al contrario questo serve per avere una maggiore diciamo potenza di segnale e poi vi arriva il manuale di istruzione in inglese allora il funzionamento è semplice voi accendete il vostro bluetooth vi mettete visibili premete il pulsante centrale come vedete si accende adesso si è spende perché l'avevo accesa si accende e inizierà la ricerca allo stesso modo fate la ricerca sul telefono aspettate perché si è connesso all'altro paio di all'altro telefonino mio lo premete e lo tenete premuto in questo caso in modo che lui lampeggi di tanti colori come vedete questo significa che sta facendo la ricerca la scansione il momento in cui andrete a scansionare ecco che troverete frigo skylark che sono queste cuffie e vi faccio vedere che si è associato queste cuffie devo dire che si sentono molto molto potenti ci ho ascoltato la musica e si sentono veramente fortissimi inoltre sono molto piccole e compatte come vedete da questa parte dal lato r quindi dal lato principale abbiamo il caricatore mentre dall'altro lato non abbiamo nulla quindi alla fine noi delle cuffie le cuffie non le andremo a toccare mai non sono come gli altri auricolari che hanno i pulsanti sulla cuffia quindi devi mettere la mano sull'orecchia e cercare i pulsanti perché li abbiamo qui praticamente l'avremo al lato del collo in questa posizione come vi dicevo gli auricolari sono fortissimi si sentono benissimo sia in entrate che in uscita e la batteria che trovi di questi auricolari a carica completa ha un'autonomia di 8-10 ore di riproduzione quindi mentre voi parlate o ascoltate musica mentre il stand by sta anche 175 ore accese inoltre la tecnologia VCV 6.0 in pratica serve a ridurre al minimo i rumori esterni devo dire che messe così senza nessun tipo di supporto le cuffie cadono continuamente devo essere sincera invece mettendo su i reggiorecchie stanno belle stabili anche perché sono molto compatte i notte fanno un effetto sottovuoto praticamente nel momento in cui si inseriscono si entra praticamente nel silenzio più totale senza disturbi da parte dell'esterno quindi fate attenzione quando li usate magari per strada se state guidando perché non sentite veramente niente se ce li avete tutti e due inseriti nelle orecchie detto questo spero di esservi stata utile a capire cosa vi arriva a casa comprando queste cuffie e vi ringrazio ciao a tutti